E niente, oggi Lello è destino, dobbiamo stare insieme. Manca Chino, ma almeno ci sei te che mi dai manforte in questo secondo video di giornata, una domenica movimentata. Tanto come stai, mangiato bene, pranzato bene? Sì, pranzato bene, almeno quello. In queste cose che dobbiamo ricavare le piccole gioie quotidiane, visto l'avarizia di gioie legate alla Juve. Ci focalizziamo sul buon cibo ormai, come consolazione. Bene, perfetto. E allora niente, Lello, dato che sul tuo canale abbiamo fatto una bella chiacchierata da quasi un'ora, su quello di Chino 40 minuti, spero di essere un po' più sintetico, ma dato che sia lì che da te che da lui abbiamo parlato di futuro a lungo termine, cioè che cosa non ha funzionato in passato, come farlo funzionare in futuro, io ti chiedo invece a breve termine, brevissimo, cioè da qui alla fine del 2021. Perché è vero che nelle prossime sessioni di mercato e magari la dirigenza potrà ragionare su un cambio di proprietà, quello che può essere, quello che sarà, non lo sappiamo, vediamo cosa succede. Però il discorso di fondo è che tu comunque martedì giochi a Salerno e poi altre quattro partite, hai cinque partite a fine dell'anno che sono abbordabili in teoria, ma calcio il campo può nascondere incertezze. Come lo finisci quest'anno? E poi se il mercato non ti porterà acquisti, devi anche finire l'anno. Allora, c'è un problema sicuramente di calendarizzazione, ci sono troppi eventi ravvicinati, cioè questo filotto di partite, questo ciclo qua dopo la sosta è troppo ricco di impegni. Io credo che sul campo alla continassa, certe situazioni, certe cose, per provarle non c'è tempo. Devi preparare partita dopo partita, arrivi allo scarico, prepari la partita e sei già subito in trasferta o in casa a giocare l'ennesima partita. Io credo che debbano essere fatti dei correttivi su ciò che abbiamo visto. Io credo che il secondo tempo, per esempio, di ieri sia di buona fattura, va migliorata ovviamente la fase di finalizzazione, perché siano sterili, non lo dico io, lo dicono i numeri. Però l'approccio, l'atteggiamento visto ieri nel secondo tempo, secondo me, è l'unica cosa di positivo che mi porto dietro dalla partita di ieri. Bisogna ripartire da là e credo che, caspita Lu, non so se sei d'accordo, ma dal punto di vista tattico, dell'impianto tattico, la partita con la Lazio, il secondo tempo di ieri, abbiano dato delle indicazioni ben precise di come può essere un pelo più offensiva, un pelo più equilibrata. E quindi io auspico il fatto che, insomma, Allegri non utilizzi più ibridi strani, ma vada a mettere i giocatori nella posizione ideale e congeniale per rendere al meglio. Poi, si hanno limitati a livello di Rosa, si hanno limitato a livello di meccanismi di gioco, lo capisco, però credo che con questo impianto, per la portata dei prossimi avversari, ecco, i punti a casa si possono portare lo stesso. E poi a gennaio, che c'è più tempo per ragionare, là si parte da un lavoro di campo ben fatto, situazionale, dove si migliora tutta la fase offensiva. Perché non possiamo lasciare la libera iniziativa là davanti, altrimenti il risultato è questo qua, sterilità. Guarda, io ripenso un po' all'anno scorso, in questo periodo, quando qualcuno già iniziava a chiacchierare il Pirlo Auto, io dicevo, ragazzi, ma non ha praticamente mai avuto, intanto una preparazione fatta bene, e poi la squadra a disposizione, perché davvero si giocava ogni tre giorni e anche quando guardavo giocare a Juve di Pirlo avevo una grossa sensazione che l'unico schema veramente efficace fosse palla su quadrado al cross per un traor Ronaldo e Morata, a seconda di quello che mi aveva lasciato libero. Questa era bene o male la classica azione offensiva della Juve di Pirlo. Quest'anno, appunto, come dici anche giustamente te, cavolo, non c'è ancora il tempo materiale per lavorare sul campo, quindi metterla a posto, perché te dici bene, bisogna migliorare il profilo della finalizzazione, ma come si migliora questa cosa? Cioè, com'è possibile migliorare, come buttarla dentro la palla? Beh, innanzitutto con allenamenti situazionali, cioè che tu vai a emulare quel tipo di situazioni di gioco direttamente in campo, alla continassa. Però, come dici tu, c'è poco tempo. È per quello che ti chiedo. Se tu hai l'idea, tu in campo devi richiedere quelle cose, quei determinati movimenti. Tipo ieri, la cosa che mi è piaciuta un sacco, nel secondo tempo te l'ho detto, il movimento a scalare di McKennie, che sfruttava il corridoio lasciato da Dybala. Dybala, che giustamente ha piedi migliori di McKennie, che viene a metà campo, e McKennie che si butta nello spazio. Quella è la classica situazione di gioco che mi piace. Oppure Morata, che viene incontro, e fa la sponda per la mezzala che, di corsa da dietro, porta via il pallone e fa salire la squadra. Ci sono due complicazioni su questo modo di fare. È un gioco di ripartenza e c'è troppo campo davanti da fare. Secondo me dovrebbe anche focalizzarsi a Legris un po' su un pressing, un pelo offensivo, perché quando l'abbiamo fatto abbiamo obbligato comunque spesso al lancione, anche ieri. Quindi un pelo più di pressing offensivo è studiare delle situazioni dove ci sono gli spazi congestionati e quindi movimenti senza palla, perché siamo una squadra che tende ad essere parecchio statica e prevedibile. Sì, però sai, tu vai a congestionare gli spazi con tutti i difensori e obblighi l'attaccante a muoversi negli spazi, negli spazi che ti detta anche l'allenatore. Se tu vai a riprodurre queste situazioni nell'allenamento, poi in partita te le ritrovi e ti rende tutta la vita più facile. Ricordo Evra che quando dopo Dortmund disse io ho preparato la partita, avevamo già giocato negli allenamenti. Bisogna tornare a quel tipo di lavoro là. Ho due altre complicazioni, dato che mi hai parlato di complicazioni. La prima si chiama Weston McKennie e la seconda Federico Chiesa. Dato che spara avanti 4-3-3 dei movimenti fatti bene, giocatori messi in quei ruoli, però intanto Chiesa fino al 2022 non c'è. McKennie vediamo quando tornerà, però Bentancur non è McKennie e non lo so, Krusevski, Bernardeschi, quello che sarà Ken stesso, non ho idea, non è Federico Chiesa. Qua, come andiamo ancora? 4-3-3, come vai? Io credo, allora vedi, il fatto che non abbiamo doppioni in squadra, il doppione di McKennie qual è? Non c'è. È Bentancur per Allegri. Per Allegri Bentancur. Ma non lo sa fare, non ha quell'occupazione dello spazio, né ha la cattiveria di andare a concludere. Ma la finalizzazione non ce l'ha, McKennie è un giocatore che ha segnato tanto, Bentancur, leggevo oggi una statistica, usare 6.000 minuti che non sei in Serie A, 7.000 minuti che non sei in Serie A, una roba. Però Bentancur è un giocatore che ha gamba, che ti consente di avere qualche metro in più e occupare il campo dell'avversario un pelo di più, perché ha anche la gamba per recuperare, e quindi stare lì a fare un po' di occupazione della metà campo avversaria e deve rimanere un pelo più statico in realtà. Stai là, nelle tue posizioni di competenza, recuperi palla e scarichi palla e giochi un pelo di più sugli esterni. Perché anche sugli esterni noi, gira e rigira, quest'anno li abbiamo sfruttati, ma fino a un certo punto. Poco. L'anno scorso li sfruttavamo molto di più. E credo che la Juventus abbia due corsi esterne di tutto il livello. Hai anche Kulusevski, che secondo me nella posizione largo con la Lazio è entrato piano piano e ha fatto il turbodiesel della situazione. Ha iniziato molto male, partenza così così, poi però è entrato nei meccanismi della partita ed è riuscito a fare le cose per bene. Io credo che messo in condizione di far bene anche lui possa dare una mano. E quindi quando tu hai dei giocatori che a centrocampo non sono offensivi, non li obblighi a fare quel che non sanno fare. Li tieni un pelo più in là, fai salire piuttosto i terzini e loro vanno a coprire le zone esterne. Perché abbiamo più qualità sugli esterni in quel caso che non... È una questione di spostare la qualità. Se la qualità ce l'hai a metà campo, giochi a metà campo. Se hai la qualità sugli esterni, sposti il pallone sugli esterni. Ed è normale che sia così. Ieri avevamo un po' e un po' in realtà e nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa, anche in maniera confusionaria. C'è da finire... Molto confusionare, ma... Sì, sì, siamo stati molto confusionari, ma ieri è una davvero delle partite che mi lascia più amare in bocca, perché l'Atalanta ieri si era mostrata tutt'altro che imbattibile e noi l'abbiamo fatta sembrare una montagna impossibile a scalare, proprio perché... Però, come dicevo giustamente, anche nei... Insomma, giustamente, come dicevo anche nei video precedenti da te e da Kino, io non credo che sia tanto un problema di formazione, però te mi hai detto invece giustamente guarda che però se tu riparti da un modo di giocare chiaro e insisti su quella cosa lì, sicuramente vai a specializzare i giocatori in un tipo di gioco e su questo invece sono molto d'accordo. Quindi... Vai anche a tagliare chi è super, il fluo, perché... Anche, certo, se non serve più in quel sistema... Hai le idee chiare. Cioè, in un 4-3-3, chi non ci sta bene in questo 4-3-3, faccio un esempio, può essere un 4-2-3-1, sparate qualsiasi modulo che vi è congeniale, ipotizzate quello là. Nella Juve troverete qualcuno che non è idoneo a ricoprire una zona di campo e lì hai, insomma, un po' d'attenzione, scarti e ne prendi un altro. Il problema è che se tu fai mille moduli partita dopo partita, tutti sono indispensabili, sembra che siano indispensabili in realtà, quando in realtà non lo sono, fai fatica anche a trovare una chiara strategia di mercato che ti porta ad un'identità tattica ben precisa. E questa è la cosa che auspico. La confusione tattica mi spaventa, perché mi sa... mi dà l'idea di un allenatore che non sa che pesci prendere e quindi organizza partita dopo partita sulla base degli uomini che ha. È vero che Allegri ci ha abituato anche a questo. Prima lo faceva con un carico tecnico differente, adesso è diversa la situazione. Adesso dobbiamo insegnare calcio. Quindi ripartiamo dal 4-3-3 e da questo momento della Juve in cui sicuramente Chiesa e Danilo sono fuori, McKennie, punto interrogativo, e cerchiamo di costruirla, questa formazione con i gradi di titolare che Allegri dovrà utilizzare per l'assalto a queste cinque partite che mi sento personalmente ridire devono essere 15 punti, non uno di meno. No, è giusto pretenderli, altrimenti... Basta, se no basta, proprio basta. Sì, sì, sì. Quindi Chiesa e Danilo... Perciò arrivare ottavo, cioè a questo punto, se dovesse andare tutto male... No, anche te lo meriti. Preferisco non fare Europa League, preferisco non fare nulla, perché almeno l'anno prossimo se c'è da ripartire si lavora sul campo, perché manca tanto quello. Il punto è che dopo te lo meriti, non è che preferisci. Ah beh, è chiaro. Te lo meriti. Quindi Chiesa e Danilo importa, dicevamo. Linea 4. A destra, quadrado. C'è lui, a meno che tu non voglia inserire De Vinter all'interno della prima squadra, voglia inserire su De Vinter, magari perché ti serve il quadrado Aldo, non lo so. Comunque il quadrado oggi è il titolo A. Delit Bonucci? Sì. Sinistra? Barra Chiellini, Barra Chiellini anche. Chi c'è? Sì. Eh, a sinistra... A sinistra io, a Alessandro, lo farei sedere con la Salernitana. Eh, per il possibile. Se la fai giocare Pellegrini dopo la prestazione che ha fatto con la Lazio, con un Alessandro così, horror... Spento, spento. Guarda, vai anche a mortificare il ragazzo Pellegrini, perché le partite le vediamo tutti. Ovviamente ai microfoni dirà, Alessandro ha fatto una buona partita come dopo il Chelsea, non gli butta la croce sopra. Però, vedendo la prestazione, tu metti Pellegrini, lo fai rifiatare, perché dopo la sosta ha giocato tanto, Alessandro deve riposare. E metti Pellegrini, perché contro la Salernitana non accetto il fatto che non metta Pellegrini. Locatelli davanti alla difesa. Locatelli, sì, davanti alla difesa, è là! La io ti dico, per vedere Rabiot così, cioè io preferisco un Bernardeschi che sgroppa come mezzala, piuttosto. Arthur non lo vede, non lo vede in quella posizione il buon Allegri, perché pensa che sia la coppia di Locatelli, che secondo me no, perché secondo me Arthur è una mezzala di palleggio che ti consolida, perché a livello difensivo non ti dà la stessa copertura a garanzia che ti dà Locatelli. In fase di impostazione è comunque differente da Locatelli, preferisco che stia un pelo più sopra a girare a palla qua e là. Quindi Bentancur Bernardeschi stiamo dicendo? Eh non lo so, perché siamo risicati là. Ma, ma... Paradossalmente potresti anche giocare con un 4-4-2 in questa situazione, mancandoti un elemento a centrocampo così importante come McKinney e giochi con un 4-4-2 non ibrido, reale. Quindi Bernardeschi a sinistra e giochi a destra con Kuluseschi con Kuluseschi e davanti metti Moise Ken Morata e c'è più di così. E niente di Bala? Togliamo di Bala? Ah no, sì, anche di Bala di Bala Ken di Bala Morata di Bala... Sì, insomma. Però vedi, anche noi siamo partiti dal ragionamento il 4-3-3 con Lazio e Atalanta è andato bene che poi ci ha portato due gol entrambi su rigore su azione per quanto andati bene non ci ha portato gol poi ci scontriamo con la realtà dei fatti. Eh no, ma ad oggi io ti dico non è che è sbagliato lui doveva partire da quell'idea dall'inizio adesso arrivi ad un punto in cui se tu stravolgi in un giorno la formazione da un momento all'altro crei ulteriori confusioni in una partita che potresti portare comunque facilmente a casa facilmente è un eufemismo però insomma il punto del ragionamento nasce dal fatto che a sinistra o ci mette Rabiot o ci mette Bernardeschi a questo punto e quindi ci lavori però ci lavori vedi se tu Bernardeschi lo vedi in quell'ottica che ti può fare sia l'esterno che la mezzala ci lavori in quei meccanismi però la cosa è se tu passi dal 3-5-2 al 4-3-3 al 4-4-2 ibrido sono già 3-4 moduli 5 che ne ha provato addirittura ha provato un 4-3-1-2 qualche partita fa con l'impoli cioè a questo punto qua tu chiedi ai giocatori cosa devi fare in campo ti rispondono boh dipende da dove mi mette e cosa so fare se invece hai delle cose ben precise dei ruoli ben chiari che sono sempre gli stessi senza stravolgere ogni volta la formazione secondo me riesci piano piano anche ad oliare il meccanismo anche di fluidità dei moduli perché spesso Allegri è uno che ci ha abituato anche a partite in corso passare da un modulo all'altro però serve accortezza e attenzione cioè non è che tu gli chiedi di fare una cosa il sole e la notte ai giocatori perché questo è quello che è successo nell'ultimo partito sui ruoli ben chiari in quell'ipotetico 4-3-3 Di Bala dove lo vedi più a destra o al centro? Di Bala io lo vedo molto più al centro al centro sai perché? perché Morata cioè scusate Morata può giocare anche largo ma Di Bala è uno anche che ti sa venire incontro e ti sfrutta l'inserimento della mezzala e degli esterni dei tagli cioè è uno anche che secondo me è più incisivo al limite dell'area non proprio dentro l'area perché lui ha bisogno o del primo dribbling per calciare o comunque da là quando gli arriva la palla lui ha il piedino per poterla buttare dentro invece secondo me Morata non sa giocare spalle alla porta paradossalmente Di Bala che è meno fisico ha la capacità di giocare spalle alla porta perché tecnicamente è più pulito nel passaggio esatto nello scarico però io con la Salernitana questa la devo dire io spero vedere Cagliarga dal primo minuto perché se non lo vedo con la Salernitana non lo vedo mai una da titolare a questo la devi far fare per capire chi è il livello che ha magari fa una partita che a 45 se mi ha toccato il pallone lo toglie però penso che sia più costruttivo un ragazzo farlo partire per questi 45 minuti piuttosto che buttarlo dentro sperando che te la risolva quando gli chiedi delle cose che non te la deve risolvere lui probabilmente a 5 minuti dalla fine perché se te la risolve è un gran colpo di culo se non te la risolve poveraccio io ti dico secondo me entro un po' nella testa di Allegri secondo la mia interpretazione di quello che è il suo ragionamento i suoi ragionamenti lui Caio Giorgio non lo farà mai giocare dal primo minuto scordatelo perché dice contro la Salernitana ha maggior ragione abbiamo perso punti con le altre non posso permettermi ulteriori esperimenti e non lo farà giocare però vuol dire che proprio ti fidi zero hai fiducia zero nel senso che lui ha paura che l'opinione pubblica ha sempre questa pipa mentale che sui giovani l'opinione pubblica possa un pochettino smorzare l'eventuale crescita dei ragazzi e ti dico perché metterlo negli ultimi 5 minuti perché lo responsabilizzi se tu lo metti 20 minuti prima stai dicendo chiaramente dal punto di vista giornalistico la lettura è questa metti Caio Giorgio negli ultimi 20 minuti gli stai addossando la responsabilità di ribaltarti una partita o comunque di acciuffarla se tu lo metti negli ultimi 5 minuti è l'ennesimo attaccante in un attacco disperato e si fa quei 5 minuti di crescita sul campo chiunque abbia giocato sa che quando entri alla fine e soprattutto non incidi ma è difficile ma è difficile c'è anche proprio di testa sei lì che sbuffi vedi in campo che magari gli altri non hanno fatto e ti dici ma io potrei fare di più e poi ti buttano su gli ultimi 3 minuti e ti dicono dai vai lotta fai capito però tu entri anche con la consapevolezza che fiducia ce n'è non dico zero meno di zero con che voglia con che voglia entri per quello che ti dico se non gioco con la Salernitana io non te lo dico adesso mi ricordo che un mesetto fa ho fatto un video guardando il calendario ho detto con la Salernitana voglio vedere Cajorga titolare perché se no non lo vedo mai più non lo vedo mai più e ti dico se le cose cioè se avessimo vinto con l'Atalanta probabilmente anche lo vedevi quindi non te la spieghi perché andavi sulle ali di una vittoria tranquilla avevi acciuffato un pello gli devi fiducia in un contesto così complicato dopo una sconfitta così importante secondo me difficilmente vedrai allegri ma non lo sto giustificando attenzione no 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 quello che pensi che anche a me piacerebbe Cagliaggiorigi dal primo sarebbe a parte che secondo me dai fiducia al ragazzo fai fiatare Morata e Morata anche nel secondo tempo può entrare a partita in corso e può spaccarla se vuole la partita però un dibalacaio ecco mi piacerebbe perché secondo me metti il più giovane con il più tecnico e qualcosa la credi interessante ma io più che altro cioè vorrei dare un segnale a chi gioca titolare e non sta rendendo bene che occhio non è che giochi titolare perché ti chiami Pinco Pallo o Panko Pinco no cioè giochi titolare perché te lo meriti che poi ieri dicono che Agnelli è andato dicono non so se quanto sia reale però c'è una ricostruzione che parla di un Agnelli che è andato negli spogliatoi ha detto Allegri non è in discussione siete in discussione voi sì quindi una maggior responsabilizzazione dei calciatori probabilmente anche lì quando un presidente scende dice fa questo endorsement sull'allenatore si dice dice chiaramente lui non è in discussione quindi non pensate di non seguire minimamente i suoi dettami perché magari lo vendiamo via avete già risolto è anche un addossare le colpe ai giocatori francamente è una cosa che comprendo però secondo me anche ad Allegri privatamente una bella tirata d'orecchie il presidente gliela dovrebbe fare l'ello lì è perché come dicevamo negli altri video il nome di Agnelli e il nome di Allegri in questo momento sono legati da un filo rosso nel senso che se fallisce il progetto Allegri di conseguenza è il quarto progetto di fila che fallisce questa dirigenza della Juve che dopo tanti anni di vittorie si ritrova in un momento di difficoltà e dovrebbe alzare bandiera bianca quindi per forza di cose in questo momento mi viene da dire che puntano il dito contro i giocatori diversamente da quanto ha fatto con gli allenatori fino adesso perché fino adesso hanno dato un esempio di ok facciamo finta che sia lì il problema secondo me il problema è ogni singola decisione cioè dalla singola decisione di metterne un esonerarlo metterne un esonerarlo metterne un esonerarlo ma anche banalmente le decisioni sul campo decisione di far giocare quello piuttosto che questo faccio questo passaggio piuttosto che mi copro piuttosto che che mi scopro cioè sono tutte decisioni cioè nel calcio sono tutte decisioni se le prendi giuste vinci se le prendi sbagliate non vinci esatto quindi con la salerintana dicevamo probabile formazione Scesni ma c'è una cosa ma Rabiot perché non gioca potrebbe giocare certo no no allora gioca lui o Bernardeschi ok vedrai che gioca Bentancur al posto di McKennie Rabiot a sinistra di nuovo però a sinistra largo nel 4-3-3 McKennie nel 4-3-3 ma scusa McKennie Ken nel 4-3-3 largo ok quindi 4-3-3 Scesni Pellegrini Bonucci Delit Quadrado Locatelli Bentancur Rabiot Ken Dybala Kuluseschi secondo me secondo me sì Kuluseschi attacco intrigante è Morata e Morata lo mette dietro l'unica cosa che mi spaventa sempre di Dybala Kuluseschi è che Dybala spesso va a congestionare la zona destra del campo non vorrei che si pestassero i piedi ne abbiamo avuto in esempio l'anno scorso tante volte cioè la Dybala veramente può avere un raggio d'azione importante da quella parte nella nostra metà campo quando viene nella nostra metà campo può andare a destra e Kuluvà più avanti lì davanti non devono pestarsi i piedi e lì tornava utile McKennie perché solitamente quando si abbassa al centroavanti si butta dentro la mezzala cosa che non farà Bentancur proprio per caratteristiche sue sì secondo me è una partita che devi impostare tanto sugli esterni sui tagli e con un Dybala centrale a me Dybala centrale non dispiace secondo me anche la partita una delle partite più belle dell'ultima era di Allegri l'abbiamo fatta con Dybala centroavanti che è stata quella a Manchester all'Oltrafford dove vincemmo 1-0 e creiamo più di un'occasione in realtà da gol in quella partita si può l'unica cosa è che bisogna anche oliare i meccanismi in uscita con la palla perché non può essere tutto palla di bala o lancione lungo e giochiamocela sulla seconda palla come abbiamo visto al primo tempo ieri sì purtroppo oggi non abbiamo un giocatore in grado di fare la differenza da solo tutti i giocatori che abbiamo in rosa sono giocatori che fanno la differenza se inseriti in un contesto di squadra cosa che in questo momento non siamo un'orchestra siamo una classe di studenti che provano a suonare il flauto per la prima volta e fanno uscire le notte stonate con il prof di musica che è un po' confuso che suoniamo al chiaro di luna che è una delle canzoni più facili con tre notte da fare e niente sulla sinistra io ti dico ieri con una mezzala normodottata l'ho detto anche nel video post gare questa cosa non me la leva nessuno dalla testa a sinistra ieri quella partita la portavamo a casa ma una mezzala a sinistra di spessore è un pelo insomma i problemi sono tanti non di facile risoluzione ma adesso è necessario fare dei risultati non c'è la bacchetta magica non c'è tempo per provare cose nuove le cose nuove si proveranno in campo e abbiamo un fine 2021 da mani nei cappelli e sinceramente via no è nella barba tu nella barba però farsi venire paura di queste ultime partite della Juventus contro squadre che solitamente la Juventus dovrebbe calcolare non dico l'unplane di punti ma quasi è lo specchio perfetto riflesso perfetto di quello che c'è il momento bianco-nero sai cosa ci possiamo portare a casa anche da ieri la risposta dei ragazzi a fine partita che oggi devono avere il giorno libero invece loro di loro sponte hanno deciso di beh ci mancherebbe anche altro che doveroso in un certo senso ma non dovuto quindi no è vero anche perché ad Allegri è venuto in mente di farlo lui andava bene fare queste cose qua però c'è da lavorare è tanto e secondo me neanche con tanto lavoro in questo momento ci salti fuori secondo me neanche con tanto lavoro con quello che è il momento della Juve l'organico della Juve adesso però sul mercato ti dico tu a gennaio chi prenderesti? eh allora Lello allora che mi tessere la Juventus non ti dico chi chi come ma che giocatori in che ruoli andresti a li toccare subito subito per avere delle risposte nell'immediato nel breve ragionando sul breve medio ovvero tu prendi un giocatore che ti rimane poi in grembo quindi lo dovrai accudire crescere dargli valore nel tempo però anche qua è difficile cioè io prenderei un attaccante io prenderei una punta prenderei un centravanti un finalizzatore un po' ti fa gol ma chi ti prendi a gennaio con quelle caratteristiche che magari sia un profilo sul lungo che viene alla Juve che lo cedono e che non lo paghi chi è? io ti dico Vlaovic sarebbe impossibile come lo prendi Vlaovic? poi strappi Lorenzo Luca però è una scommessa ma è scommessa eh ho capito ma se devo sperare che un ragazzo che gioca in B quest'anno mi deve venire a risolvere i problemi della Juventus magari sarei felicissimo compro la maglia se succede però capisci io ovviamente ragazzi ho fatto il nome di Luca non perché io voglia Luca perché dico è uno di quelli prendibili che tu fai porti soldi e quelli là te lo danno al volo perché in una serie B in una squadra di serie A che ha già dei binari su certi obiettivi difficilmente va andrà a cedere il proprio centro avanti con una certa facilità ti dicono Vlasco torna a giugno perché a me questo qua serve ed è difficile sostituirlo ti dico io l'unico profilo simile che posso vedere a gennaio è Icardi però non è un nome sul lungo è un nome da metto una pezza come me lo immaginavo il 31 di agosto cioè io non l'ho mai voluto Icardi ma il 31 di agosto dopo che è andato via Ronaldo ero lì a dire oh ragazzi tesseriamolo il prima possibile perché se no facciamo io l'unica cosa o prendiamo un attaccante forte per prendere una merda altrimenti sembriamo l'Inter quando prendeva Pazzini ti ricordi quando prendeva Pazzini e sta gente qua noi siamo questi adesso però eh sì siamo questi per bruciare soldi piuttosto rimaniamo così e vaffanculo finisce la stagione no sono d'accordo però significa che la finisce così cioè non è che a un certo punto bacchetta magica e secondo me puoi trovare qualche opportunità di mercato seria a centro campo però anche lì ti serve per come la sto interpretando io Allegri vuole un mediano di rottura di equilibrio da mettere davanti per portare Locatelli la sua sinistra al posto di ma Locatelli a sinistra ci può giocare secondo Allegri perché io da quanto ho capito lui vuole un mancino lì quindi diventano già due profili a centro campo che sono una mezzala di qualità che può giocare a sinistra e uno davanti alla difesa pare come sono fatto io io mi prenderei cazzo me ne frega dell'essere mancino a me ma anche a me Lello ma anche a me però se c'è sempre solo fatto giocare Rabio e Bernardeschi in quella posizione e mai Bentancuro o McKennie c'era un motivo se non c'ha mai giocato Arthur se non c'ha mai giocato Locatelli se non c'ha mai giocato Ramsey perché perché nessuno c'ha mai giocato io addirittura sull'ibrido esterno mezzala avrei provato addirittura Coluseschi perché è un giocatore di quantità e mancino te lo potrebbe anche fare adesso per il momento è sempre che l'abbiamo accantonato il nostro sistema di gioco però questi sono i giocatori che abbiamo in rosa se lì vuoi quel tipo di giocatore per esempio Modric e Kroos sono tutti e due destri non mi pare che facciano schifo come mezzale quello che dicevamo ieri sera su Whatsapp con Davo ma noi siamo l'unica squadra che ci facciano questi problemi di dire però questo qui non lo so solitamente gli undici più forti che in rosa dici bene questi sono i miei undici li metto in campo ma Allegri ce l'ha sempre detto datemi i giocatori forti un modo di farli giocare insieme lo trovo quest'anno invece sembra veramente che uno o non ha capito gli undici giocatori più forti due o li considera tutti un po' così tre ha cambiato il modo di ragionare perché solitamente Allegri metteva anche tre o quattro attaccanti non gli interessava l'importante che poi la squadra andasse a fare del sacrificio sarebbe figo sai chi Van de Beek è uno di quei nomi che me lo portano a Torino me lo prendo al volo adesso non lo cedano più perché gioca adesso gioca adesso gioca ma uno come lui qualcosa centrocampo ci vuole che buttino via Ramsey che prendano Zaccaria che prendano qualcuno basta che dia nuova linfa nuova vita a questo centrocampo che però io sono anche dell'idea che cioè gennaio benissimo chi arriverà perché secondo me qualcuno arriverà ma non è che arriva e gli stendiamo il tappeto rosso grazie abbiamo sistemato tutto perché no è semplice cioè non è non è solo quello è un correttivo che non è definitivo è una pezzella via ma poi arriverai arriverai in un momento in cui la Juventus si sarà già giocata dei punti perché i punti che hai perso cioè non è che li recuperi dopo con un giocatore in più in rosa quindi quello è dai basta se no ci mettiamo a piangere no 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 perché poi sai che cos'è abbiamo fatto adesso 50 minuti da me 40 da te 40 da Lula da Kino 30 da te più andiamo avanti più vediamo problemi che in questo momento ci sembrano insuperabili insuramontabili quindi però guarda concludiamo con questa secondo te tra la notte di ieri e la mattinata di ombre dirigenza Juventus si è trovata io spero di sì avrà detto abbiamo fatto 200 minuti di registrato quasi 180 minuti di registrato avranno tirato fuori tutti questi problemi io spero di sì perché se se ci troviamo noi a fare queste cose questi ragionamenti ragazzi e guardarli io voglio sperare che chi deve davvero risolvere i problemi si sia messo in moto per risolvere i problemi e capire quali sono stati gli errori perché ad oggi è inutile prenderci in giro degli errori ce ne sono stati perché se no questa situazione baralmente non ci arrivi l'avranno fatto spero di sì spero di sì la cosa che chiedo alla società che prendete qualcuno che abbia mentalità che quando entra in campo faccia il leader che manca qualcuno a cui aggrapparci in certi momenti sto vedendo più passa il tempo meno leader in campo sto vedendo da parte di difesa che ieri Scesni Bonucci di lì tanta roba ma dalla cintola in su veramente nulla totale a parte la prestazione di Locatelli ma Locatelli è uno che ha bisogno di un altro per trascinare veramente la squadra in là non te la carica sulle spalle e ti porta alla ribalta lo sapevamo dal principio servono anche leader e quindi l'aspetto mentale è uno di quelli che dovranno valutare poi per il mercato siamo carenti da quel punto di vista riusciamo a fare mercato però con pochi soldi perché per dire Locatelli quest'estate è stato l'unico colpo mirato voluto sì era quello lì però c'è costato i soldi che pagheremo poi ci sono delle buone soluzioni a metà campo bisogna capire se la Juve ci sta lavorando effettivamente se è inquadrato il giocatore perché ti dico secondo me tanti acquisti non sono sbagliati McKennie Locatelli non ti svoltano la squadra verissimo però se devi ripartire riparti proprio da questi ragazzi quindi aggiungere qualcosa in più non guasta Zaccaria è uno di quelli che puoi prendere se voglia cioè se ti piace tanto credi che ti che ti cambi un pelo le sorti del centro ma basta anche poco per ora che abbia dei margini di crescita lo prendi però io mi auguro che lo decida Allegri dato che è Allegri che deve allenare a Juventus certo che non dicano no ti prendo questo perché possiamo premettereci qui no basta un mercato di opportunità che con le opportunità e con le figurine non si fanno le squadre si fanno con le caratteristiche con l'oculatezza e mai come in questo momento che dal punto di vista economico non abbiamo denari e quattrini da buttare al vento cioè dobbiamo ragionare in quel senso cioè devi capire quel che ti serve e se e andare lì e prendertelo se rispecchia quel che tu chiedi vai e lo prendi cioè come abbiamo fatto prima cioè alla fine la prima Juve di Conte è stata costruita con oculatezza ci sono stati poi degli upgrade piano piano no poi siamo arrivati a un punto di rottura che è Iguain via Pogba dentro Iguain della strategia del tutto e subito poi abbiamo addirittura fatto il passo con Ronaldo più avanti perché lì è arrivato ormai al top hai visto che in Europa stavi andando hai detto funziona buttiamoci ma se no diversamente lui non avrebbe mai fatto sì esatto però adesso invece devi ripartire di nuovo con quel principio con quello spirito che ti aveva portato poi a prendere Iguain perché era la cosa in più rispetto alla squadra che già avevi i ragionamenti che sono stati fatti per prendere Pogba Vidal Licksteiner tutta sta gente ora non parlo del singolo ma i ragionamenti che c'erano dietro a quegli acquisti vanno riproposti in questo momento ma poi banalmente banalmente in quegli anni lì andavi a prendere giocatori da squadre di Serie A che stavano sotto di te o comunque intorno a te e che magari poi cioè quante volte abbiamo detto ma Tricogliarella Vucinic Licksteiner non giocherebbero in questi due sì è vero però per migliorare quella rosa in quel momento lì che in Serie A comunque in Italia stava facendo male andavi a prendere giocatori che altre squadre stavano facendo bene quindi è inutile che noi adesso andiamo a sognarci i profili internazionali perché se è una squadra all'ottavo posto banalmente dobbiamo ripartire dalla Serie A perché per tanti anni è lo Scudettino è i confini adesso non sei neanche lontanamente lì vicino cioè ti basterebbero dei profili che magari due o tre anni fa avresti detto ma no ma non esiste è che fanno come ti dico io i nomi che ho sentito adesso la Sashua Meni che è diventato adesso mainstream però quando la Juve l'ho menzionato chi cacchio era Sashua Meni siamo andati tutti a ricercarlo ed invece un profilo di alto livello ecco quel tipo di lavoro Botman del Lille che costerebbe 20 milioni sono tutti i nomi che sono non sono mainstream ma alla quale puoi aggiungersi un po' di valore che magari hanno già la forza di incidere io dico fatti i colpi all'anguissà col Napoli per rimanere di grande attualità sono quelli a noi i colpi che mancano di progettualità e di futuro vediamo a gennaio se succede qualcosa e mi auguro di sì perché sennò diventa un bel problema Lellone grazie per la chiacchierata concludiamo che se no i ragazzi giustamente ci mandano a quel paese ma oggi abbiamo esagerato diciamo così abbiamo esagerato ma dai almeno gli abbiamo tenuto compagnia in questo momento tosto credo che alla fine anche loro il fatto che vedano questi video probabilmente speriamo un pelo di tirarvi su non so quanto ho visto l'umore ma almeno di condividere già la condivisione può aiutare ma se io penso sempre che per risolvere i problemi prima bisogna individuarli penso che ne siano stati trovati tanti in queste ore di registrato e di aver fatto ragionare perché il mio intento quando finisce un mio video spero sempre di aver lasciato uno spunto di riflessione con cui magari qualcuno dice io questo non ce l'ho pensato effettivamente interessante e può integrare dicendomi anche la sua una cosa che magari non ho pensato io quindi questa è la cosa più bella secondo me sì perché poi noi dall'esterno vediamo una marea di problemi di potenziali problemi in realtà più che di a parte i problemi oggettivi di campo però di potenziali problemi loro in cuor loro che vivono la situazione giorno per giorno sanno dove stanno i veri problemi e sanno dove vengono metterci le mani per cui noi auspichiamo che da tutte queste riflessioni insomma la società sia attivi e in poco tempo riesca a risolvere almeno quelli più più difficili e più tosti sì non c'è la faccia tosta vuol dire che ne sappiamo più di loro non è assolutamente così come quando osi criticare o l'allenatore o un calciatore per qualcosa di sbagliato secondo sempre la nostra opinione che venivano presi tipo per i guru che stanno lì a spacciare sapiente in realtà sono riflessioni da tifosi niente Lello grazie di tutto canale di Colpo Gobbo lo trovate qui sotto in descrizione fate un salto anche da lui dato che abbiamo fatto un video interessante anche sul suo canale un bacione buona domenica e buon inizio di settimana ciao a tutti ciao ciao ciao